chiara teocchi allora sesta edizione qui a verona e sei tornato nuovamente sul grattino più alto del podio si sono sono molto contenta sinceramente anche sorpresa della mia prestazione di oggi però quest'inverno mi sono allenata veramente bene questa mattina appena sveglio pensato una cosa chiara felice uguale chiara veloce sono molto felice in generale di come sta andando la mia vita in questo periodo ho passato tre anni un po difficili però adesso ho ritrovato la felicità la serenità e quindi oggi sono riuscita a pedalare bene mi sono divertita tantissimo è sempre bello quando delle belle sensazioni correre quindi e quindi niente mi sono veramente divertita oggi una dedica intanto ad oggi ma voglio dedicare questa vittoria alla mia mamma che ha avuto una piccola operazione quindi adesso è riabilitazione però insomma niente questo è per te mamma anche questi fiori te li porto quando torno a casa ciao